Pink is Better è il nome della marcia rosa di 5 km organizzata dal comune di Carmignano di Brenta con l'associazione polisportiva locale. Lo scorso 2 luglio hanno marciato più di 300 persone, tutte con la maglia rosa. Un evento sportivo e di solidarietà, sì perché sono stati raccolti più di 1300 euro che sono stati devoluti alla fondazione Altre Parole Onlus che lavora sul tema dell'umanizzazione delle cure oncologiche. Lo sport è tra gli strumenti più indicati di aggregazione, socialità, promozione ed educazione, affermano il sindaco Eric Pasqualone e l'assessore allo sport Alberto Lucetto. La marcia, inoltre, permette di far convivere in un'unica iniziativa persone di tutta l'età e preparazione sportiva.